Baroni, c'è da essere preoccupati dopo questa sconfitta? Preoccupati, c'è da risolvere dei problemi. Preoccupati è una parola che non mi piace, nel senso che per un'ora, nonostante che anche oggi siamo andati sotto quasi subito, poi abbiamo fatto un'ora di calcio importante, con una supremazia, con una forza, una capacità di gestione della partita importante, creando, credo, 5-6 occasioni da gol minimo. C'è da riflettere su questo calo negli ultimi 20 minuti, devo capire se è un fatto mentale, se c'è stata paura, non lo so, perché, ripeto, dopo il 2-1 c'era ancora una squadra sola in campo, abbiamo sferato il 3-1, e poi la squadra si è abbassata, ha concesso dei cross, portando poca pressione, insomma, e dopo siamo andati in difficoltà. C'è da porre rimedi a queste situazioni? Aspetta a me, aspetta a me risolvere queste situazioni, perché, ripeto, non è tutto il secondo tempo, è stato fino, dopo, ripeto, 15 minuti, abbiamo ancora fatto bene, secondo me, cercando di trovare soluzioni di gioco, di andare al tiro, andare al cross, quello che sappiamo fare bene, e poi sono bastate due cross messi dentro per metterci a prensione, il primo ha fatto una gran parata a Fiorillo, il secondo abbiamo preso gol.